La Cuccarini, squadra vincente, non si cambia. Ancora uno spettacolo targato Viola Produzioni con la regia di Maurizio Colombi. Com'è lavorare con Maurizio? Lavorare con Maurizio è esaltante perché Maurizio è un vero genio e è un uomo che secondo me ha un grandissimo talento che in questo spettacolo ha raggiunto il massimo della sua maturità perché mentre Rapunzel era uno spettacolo bellissimo ma uno spettacolo che era molto dedicato solo ai bambini. Poi i genitori erano molto felici perché accompagnavano i bambini e era un'opportunità per portarli a teatro ma sicuramente insomma i genitori sapevano di andare a vedere uno spettacolo che era principalmente per i bambini. Ecco con la regina di ghiaccio Turandot credo che invece abbia veramente confezionato uno spettacolo che piace a tutti. È un vero family show nel cui i bambini si divertono e si appassionano i personaggi che sono sul palco ma anche gli adulti seguono una storia che poi è una storia importante. Parliamo comunque della regina di ghiaccio, una fiabba persiana a cui si è ispirato anche Giacomo Puccini per scrivere l'opera lirica. All'interno ci sono anche dei piccoli assaggi, dei piccoli omaggi al mondo pucciniano. C'è un Nessun Dorba che fa Pietro Pignatelli con la mia piccola partecipazione all'inizio che è uno dei momenti più romantici di tutto lo spettacolo. Insomma noi siamo felici, siamo molto esaltati devo dire. Io mi diverto molto a fare questo spettacolo ma la cosa bella è che siamo 20 persone in scena e c'è tanto tanto talento. Le canzoni sono sempre dello stesso team dello spettacolo di prima, sono nelle tue corde anche queste? Sono nelle mie corde anche queste molto impegnative tutte ma non soltanto le mie anche quelle che cantano Calaf che cantano le tre streghe per esempio come il signore del sole la bambina della luna. Sono personaggi aggiunti che non c'erano. Maurizio ha fatto un mix perché ha preso un po' della fiabba persiana di partenza, ha preso un po' della fiabba di Carlo Gozzi che a sua volta appunto aveva già visto la persiana. Ha fatto un po' tutto e poi naturalmente ci ha messo come dire la sua bacchetta magica perché riesce a trasformare in fiabba veramente ecco anche il libretto di un'opera lirica e lo ha fatto secondo me in una maniera assolutamente greggia. Se madre Goethe era proprio un personaggio cattivo da cartoon questo è un personaggio molto più sfaccettato credo anche più bello da interpretare perché è un bipolare ma comunque sotto un incantesimo. Assolutamente infatti mentre ecco Goethe era un po' una maschera, è un personaggio cattivo che però a tratti era anche molto buffo, molto comico per non parlare poi del risvolto finale di quando Goethe l'invecchia. Questo no, questo è un personaggio che all'inizio è veramente malvagio, è molto duro e poi invece si scopre fragile, si scopre tenero, si scopre quasi adolescenziale proprio perché lei è una donna che non ha mai conosciuto l'amore, è una donna che ha vissuto in questo incantesimo per tanti anni quindi pensa di essere così perché è nata così e invece nel momento in cui incontra Calaf e capisce cos'è l'amore riscopre naturalmente una nuova vita e vive proprio questo dualismo all'interno dello spettacolo perché poi ci sono queste streghe che continuano a tornare e a cercare di soggiocarla fin quando poi Calaf non vincerà sulle tre streghe. Per cui insomma è un personaggio molto faticoso devo dire da portare in scena e proprio per rendere questa doppia chiave ma anche in questo devo dire Maurizio è stato molto bravo a dirigermi. Ghiaccio che arde praticamente. Ghiaccio che arde esattamente, è proprio fra l'altro uno degli indovinelli, sono parole che sono inserite in uno degli indovinelli che Turandot preparerà per Calaf non sapendo che lui è Calaf perché si presenterà al rito, alla cerimonia del rito dei tre indovinelli con una maschera e quindi lei è convinta che questo sia un pretendente che lei comunque non vuole né uccidere né sposare perché lei ha questo cuore che oramai batte per un uomo che però non conosce, cercherà appunto di non far indovinare invece vabbè poi non dobbiamo dire... No, non spoileriamo tutto, esatto. A gusto se non puoi vedere a teatro lo spettacolo. Senti, i tuoi figli come reagiscono quando ti vengono a fare i personaggi di Madre Godel prima e Turandot adesso? Ma i miei figli sono anche molto abituati diciamo a vedermi a teatro ma anche a vedere proprio spettacoli teatrali. Che bello. Sono appassionati quindi riescono diciamo a cogliere la bellezza proprio dello spettacolo, il lavoro che c'è dietro le quinte ma anche la totalità proprio dello spettacolo perché sì io sono la mamma ma poi lo spettacolo è tutto e devo dire che questo è uno spettacolo che è piaciuto moltissimo a tutti e a tutti non soltanto ai miei figli anche a mio marito insomma è sicuramente uno spettacolo che ha colpito nel segno. Grazie mille Lorella. Grazie, grazie a voi. Che cosa stai guardando? Cosa c'è lì da vedere? Pronta? Sì, certo. Vai allora dimmi fammi la domanda. Abbiamo già parlato malissimo di te con Lorella Cuccarini, ho detto che sei un regista tremendo che già l'avevi già diretto nell'altro spettacolo prima e in questo. no sto scherzando, ha detto che lavorare con te è bellissimo, perché hai scelto proprio Lorella per questi due spettacoli? Perché l'ho scelta, perché vabbè dai elencare tutti i pregi di Lorella stiamo qua due ore, perché è brava, perché è bella, perché è Lorella, però sapete cosa c'è la figata di lavorare con Lorella? È che quando tu fai le prove lei arriva per prima, vai via per ultima, non sbaglia, sembra Spock nell'Enterprise, Star Trek ve lo ricordate? Lei è come Spock, io la chiamo Spock, sbaglia ma veramente raramente e per cui tutto il resto della compagnia, del cast, segue a scia, i suoi modi, i suoi metodi, i suoi tempi, i suoi rari e diventa tutto più facile. Dirigere uno spettacolo dove c'è dentro Lorella è molto più facile che dirigerlo senza. Come ti è venuta l'idea di portare in scena la Turandot e portarla in questa forma, quindi omaggiando comunque anche Buccini? Sì, perché allora, io sono un po' l'alfiere delle fiabe, no dai in Italia. Il creatore di sogni l'avevo definito tanti anni fa. Mi piace questa cosa che hai inventato tu. Siccome le opere italiane sono famose, più all'estero quasi che in Italia sono apprezzate, no? E noi le viviamo sempre come musica colta, come per un pubblico d'elite e allora mi piacerebbe far conoscere l'opera ai ragazzi attraverso un altro formato. Turandot è comunque una fiaba, no? Perché nasce da questo racconto di questa regina, dal cuore di ghiaccio, che fa tagliare la testa ai principi e l'ha trasformata un po', l'ha fatta diventare un po' più femmine. Le fiabesca, cioè il setto dei personaggi, c'è il Signore del Sole, che è Sergio, che è bravissimo, è un attore stupendo, che recita tutto attraverso i proverbi di Confucio. E poi c'è la bambina della luna, che quest'anno la fa Daniela Simula, che è il personaggio in cui si identificano i bambini. Lei vede e prevede il futuro, per cui può cambiare, no, vede e può cambiare il futuro, prevede e può cambiare il futuro. Per cui è forte questa cosa qua, lei cambia le sorti della fiaba facendo sorgere il sole prima, è forte questa cosa perché svela gli indovinelli al principe, che poi il principe è purtroppo un po' la nota dolente dello spettacolo perché è quello che lo fa un po' scarso, Pietro Pignatelli, no, non c'è perché... E qui dopo lo becchiamo. No, scherzo, fa una parte pazzesca perché poi canta il pezzo, canta Nessun Dorma, quando c'è quel pezzo lì. Questo spettacolo, questo musical è un family, però fin dall'inizio, forse per quelle sonorità che ricordano Puccini, è importante. Infatti all'inizio ha una connotazione molto più adulta che per bambini. Tagliare i testi con la katana, voglio dire. Sì, e poi c'è il sangue sulla scena, però questa è la cosa che piace di più ai bambini, ma proprio l'assetto dello spettacolo è molto grande, infatti Quagliar Chimbaudi secondo me è il suo posto perché comunque mantiene comunque una connotazione lirica. Poi qui sei di casa e mi ricordo del 2006, il primo Peter Pan qui quando l'hai presentato tanti anni fa. Sì, ragazzi, qui ho fatto We Will Rock, Peter Pan, Caveman ho fatto anche, ho fatto tutto, per cui se mi piace venire qua a Gliar Chimbaudi. Beh, possiamo dirlo che sarai ancora Capodanno in scena con Caveman, lo vuoi dire? Certo, al Teatro Dal Verme, sempre dei pomeriggi musicali con Beppe Manzoni e tutta la compagnia, Stefania Fumo, al Teatro Dal Verme perché è un teatro pazzesco nel centro di Milano, si sente poco perché è sempre riservato un po' all'elite della musica, così. Invece noi ci facciamo uno spettacolo a Capodanno, una festa, un happening, dove ci divertiamo. Ricordiamo ancora l'appuntamento qui a Gliar Chimbaudi con la regina di ghiaccio. Sì, con Lorella Cuccarini, la regina di ghiaccio, ispirata alla turandot di Puccini, ma non è un'opera, è un musical con una band pazzesca suonato dal vivo da Davide Magniabosco e venite a vederlo con i vostri bambini perché è dedicato a tutta la famiglia. Eccolo qui, il nostro eroe, Calaf, e sì, sei l'eroe della situazione che va a sciogliere questo cuore di ghiaccio, Pietro Pignatelli, anche tu sei un veterano di musical, stavo parlando con una mia amica, quanti anni è che fai musical? Ecco, che è subito sinonimo di vecchio. No, vecchio no, però diciamo che hai una bella esperienza. Diciamo che abbiamo cominciato insieme con la Cuccarini nel 97, con Gris, io all'epoca cantavo, mostravo sai, il culo, ma come ha detto? Tante uguali, c'erano tutti. Il chiù! Il chiù, eh che è vero, mi prendeva in giro soprattutto. Era così. Silvio mi prendeva in giro e diceva, ma tu non dici culo, tu dici chiulo. Chiulo, esatto, mi ricordo perfettamente, c'era anch'io, quindi siamo più o meno lì con metà, eh? Sì, e quindi nel 97, poi dopo con Lorella, sempre il pianeta proibito, però non mi ricordo l'anno, aiutami. Non lo so. Ok, e poi adesso siamo qui con la Regina di Ghiaccio e piano piano sono salito di grado perché da sempliciotto, proprio da scemotto, da Gris sono arrivato, anzi no, forse no, perché sono arrivato a essere suo padre nel pianeta e qui sono il suo partner e devo dire che è un bel onere ed onore essere suo partner perché è una collega straordinaria, è un'amica, è una donna meravigliosa e ti stimola tantissimo lavorare con lei sul palco, è un continuo essere sempre attenti. E addirittura lei si trasforma proprio nel tuo indicatore di verifica sul lavoro che stai facendo perché ti rendi conto se magari stai calando e allora ops, subito ti rimette in sesto. Basta una stretta di mano e capisci che devi dare di più. E lo spettacolo è molto bello, è bello e ci sono momenti in cui io mi emoziono veramente. Tra l'altro è delle canzoni anche abbastanza complicate da cantare. Sì, ma anche belle, cioè basta pensare solo a Nessun Dorma che è stata trasformata per l'occasione in un duetto magico, poetico, perché lei diventa un tutt'uno con la luna, vabbè poi non sveglia troppo, però è un momento molto bello, molto magico ed è quello forse uno dei momenti più forti per me, mi emoziona tantissimo. E poi voglio ricordare i miei colleghi. Esatto, non l'abbiamo ancora detto. In un'intervista sì, esatto, a me piace sempre parlare anche dei colleghi perché senza di loro veramente i personaggi, il proprio personaggio poi non può essere costruito per bene. Io ce l'ho qui dietro di te, in spilza, ecco guarda, però ovviamente te li ricordo velocemente. Io se vuoi leggerli. Ecco, no, vabbè. A memoria. I miei due angeli custodi che sono Cianje e Yao, il Signore del Sole e la Bambina della Luna, che sono Sergio Mancinelli, lo troviamo qui, e Daniela Simu. Che è nuova, mi diceva. È nuova, in questo allestimento arriva la Bambina della Luna, non c'è più la Signora Luna ma c'è la Bambina della Luna ed è una cosa che ne abbiamo adesso già fatto, ha debuttato a Senigallia e ha colpito tantissimo bambini e genitori perché intenerisce tantissimo e intenerisce soprattutto me, Calaf, che sulla scena aveva a che fare con una bimba che porta magia e che rappresenta anche un po', tutte e due rappresentano un po' istinto, quindi ragione e passione, istinto e ragione. Calaf andrebbe lì a affronterebbe qualsiasi cosa, per amore di Turandot, sono loro che invece gli tracciano la giusta strada, la retta via, per non fargli perdere la testa in modo fisico. E le tre streghe? Le tre streghe, andiamo con le tre streghe, ce l'abbiamo qua, ce l'abbiamo qua, abbiamo Federica Buda, abbiamo la Matta che è Silvia, poi abbiamo la Valentina Ferrari e loro, oddio, ma io ho dimenticato il cognome di Silvia, che scartozzone. Ecco, io non lo so. Se mi vede Silvia, ovviamente, ma forse l'ho fatta apposta Silvia. Come mai? Beh, è una cosa tra loro. Ci facciamo un po' di dispetti. Ah, ok. Poi ci sono tutti gli altri, no, c'è i ping pong pong, meravigliosi, Giancarlo Teodori, Jonathan Guerrero e Adonamamo, il falsettista, sopranista, adesso non voglio sbagliare il termine tecnico, però una voce lirica pazzesca. Insomma, siete più di venti? Barillari, Paolo Barillari, che è anche un autore delle musiche. Barissimo, oltre ad essere l'imperatore di Altum, è anche autore. Poi c'è Flavio Tallini, che è il principe di Persia, e Laura Contardi, che è Zelima. Il principe di Persia che perderà la testa? Lui sì, lui mi precede e perde la testa, tiè. Io la perderò? Non ve lo dico, dovete venire a teatro e vedere. Però io in un certo qual modo la perdo la testa. Esatto. Però forse in senso figurato, ma resisterò. Un appello per tutti, per venire a Giacimboldi a vedere Turandotte, la regina di Giaccio, farlo tu. Ma io, che dirvi, sicuramente questo è il miglior spettacolo. È un bello spettacolo. Ecco, è uno spettacolo bellissimo, è uno spettacolo per tutta la famiglia. Dici, ma io ho 80 anni, è uno spettacolo per te. Ma io ho solo 6 anni, è uno spettacolo per te. Io ho 20 anni, o che devo fare? È uno spettacolo perfetto per te. Quindi dico, perché starsene a casa? Fa freddo, oppure andare in giro. Fa freddo fuori, fa freddo a casa. Venite a teatro, che sicuramente state caldi. Risparmiate il riscaldamento. Ecco, calaf vuol dire calore, amore, fuoco. Quindi vi scalderò io, non vi preoccupate. Venite, venite. Aiuto.